Il mondo moderno sembra invaso, e di fatto lo è, di allergie. Perché neanche ogni anno, ogni giorno si può dire se ne scoprono di nuove. Ricordiamoci però che fino ai primi dell'Ottocento i fenomeni allergici, e in particolare cominciamo da quello della febbre da fieno, che non deriva per niente da fieno, non esistevano, perché negli primi dell'Ottocento l'inquinamento urbano diventa talmente consistente che un signore si accorge di essere allergico, ma poi ci mette altri 10-15 anni a trovarne altri 7-8-9 come lui, ma sempre in ambiente urbano. In campagna i contadini non sono mai morti di raffreddore, di allergia, di bruciore degli occhi, pur vivendo in mezzo al fieno. È l'inquinamento che sinergizza, nel senso che induce il nostro organismo ad avere reazioni allergiche. L'inquinamento provoca una serie di reazioni di difesa del nostro organismo, fino all'asma se vogliamo, cioè al restringimento dei tubi bronchiali per smettere di inalare delle cose che risultano dannose. L'inquinamento e l'allergia sono in questo senso strettamente collegati in maniera scientificamente dimostrata. In ogni caso, mi raccomando, furono ideali i tempi in cui in campagna l'inquinamento non c'era. Oramai è arrivato anche sin lì e anche lì ha cominciato a figurarsi la gente ad avere allergie, ma anche dai prodotti di sintesi chimici che usa come diserbanti, che usa come fertilizzanti. Cioè c'è un inquinamento, se quello urbano è una cosa, quello delle campagne è un altro. Quando noi troviamo nel grasso degli orsi polari il PCB, che è una sostanza delle stampanti, delle fotocopiatrici, vuol dire che arriva dappertutto. Chiunque si occupi in maniera un pochino approfondita di natura apprende a un certo punto giustamente che ognuno di noi, che ogni soggetto è unico ed irripetibile, quell'uomo, quel cane, quel coniglio, non saranno mai uguali agli altri. Certo, ci sono delle cose che ci accomunano, fra tutti, però ognuno è a sé. Se andiamo poi nel cervello, che risente ancora di più della muscolatura, dell'esperienza, della vita addirittura intrauterina, allora in quel caso le reazioni di una persona, anche a maggior ragione a livello cerebrale, sono diverse da quelle di un altro. Studi sui gemelli identici lo hanno più volte confermato e visto. Quindi, quando andiamo a parlare di farmacologia, di reazioni cerebrali o di patologie cerebrali, è ancora più importante tener conto della unicità dell'esperienza e alla fine della struttura di una persona. Ecco che questo è l'argomento di cui tratterà, fra qualche istante, il professore Giorgio Racani, che è l'apicale proprio per la neurofarmacologia in salute Europa. Anche nel campo psichiatrico è fondamentale oggi che vi sia una terapia fatta su misura per ogni tipo di paziente. Perché noi sappiamo, ad esempio, dalla psicofarmacologia, che c'è un paziente il quale non risponde ad un farmaco o risponde parzialmente, un altro paziente invece risponde allo stesso farmaco. Evidentemente, l'assetto biologico e psicologico di questi due soggetti è diverso. Quello che è importante oggi è andare a individuare quale farmaco è più adatto per un tipo di malattro rispetto all'altro. Alle persone anziane, vogliamo dire vecchie, a un certo punto, non a tutti, compaiono delle macchie sulla pelle. Difficilissime da togliere, ma anche perché sono macchie che c'erano sin da quando uno è nato. Potremmo dire che sono delle voglie che prima non si vedevano. Passano gli anni, la pelle, ripeto, non a tutti, si assottiglia e quindi quella macchia che c'era già ma non si vedeva diventa evidente. Anche nel nostro cervello ci sono delle strutture che si sono formate mentre noi eravamo in gestazione. Poi diventano, con l'esperienza, col passare degli anni, evidenti magari a 15, 16 anni, a 60 anni. Quindi una farmacologia che si occupi di problemi cerebrali, di problemi mentali, deve tenerne conto di questo fatto che il cervello, come tutto il resto dell'organismo, è in costante evoluzione o involuzione. Quindi sentiamo adesso il professor Giorgio Racani, illustre farmacologo, neurofarmacologo internazionale, che appunto ci dice come vada ritagliata sulla persona e sull'età e tenendo conto di ciò che è avvenuto fino a quel momento, anche la farmacologia delle malattie mentali. Nel campo della schizofrenia noi vediamo che il primo episodio psicotico si verifica tra i 16 e i 18 anni. Quindi uno si pone la domanda, ma cosa è successo nel cervello dalla nascita fino all'adolescenza? Ecco che oggi c'è delle ipotesi neurobiologiche tra le malattie psichiatriche, non solo la schizofrenia, sullo sviluppo cerebrale. Cioè si ritiene che già in età perinatare e neonatare e durante l'adolescenza e durante lo sviluppo del cervello ci possono essere delle situazioni in cui possono poi portare ad una vulnerabilità genetica, individuare quindi verso alcune patologie che poi si manifesta nell'età adulta. Pertanto diventa fondamentale che quindi anche nel bambino, cioè nell'età quindi giovane, nella gioventù, si possono fare delle diagnosi precoce o comunque intervenire per poter poi evitare che ci sia una cronicizzazione della patologia. Ma sentiamo sempre il professor Raccagni anche su questo argomento dell'evoluzione delle malattie mentali. Da quando partono e quando poi compaiono, ma c'erano già, come un pupetto che è stato inseminato nove mesi fa e poi alla fine nasce. Diventa pertanto importante affrontare problematiche sia dal punto di vista diagnosi e terapeutico anche in età pediatrica. Oggi purtroppo c'è una scissione completa tra la neuropsichiatria infantile e la psichiatria dell'età adulta. Quindi nel futuro è auspicabile che anche gli psichiatri si occupino sia dell'età infantile come dell'età adulta. Che ci sia una psichiatria sia nell'età evolutiva nell'adulta e poi nell'anziano. E non che sia diversa tra quello che avviene dal punto di vista terapeutico e diagnostico nell'infanzia rispetto all'età adulta. Faccio un esempio. L'autismo è una patologia che viene diagnosticata in età pediatrica. L'autismo lo ritroviamo anche nel bambino, nella bambina in cui diventa adulto e rimane autistico. Nell'età adulta lo psichiatra non vede più i pazienti autistici nell'età adulta. Vengono soprattutto, vanno a finire in qualche ritardo mentale. Ecco, questo è un aspetto che invece dovrebbe essere affrontato in maniera più scientifica e quindi delle patologie che si presentano nell'età dell'infanzia, che poi sono presenti anche nell'adulto, debbano essere trattate dallo stesso specialista.